Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Scusami, scusami. Cosa fai nella vita per uscire dagli studi di RTL? Il mio nome è Jody e sono un sottomesso, ma molta gente non capisce. Wow, fantastico. E qual è la difficoltà più grande che hai incontrato? Jody, Jody, sembri il mio dono della parrocchia. Jody, Jody, vuoi venire? No, no, no! No, no! No, no, no! Dai, ogni volta! Complimenti, complimenti, grazie! Grazie, ciao! Era programmato, questo video? No, mi ha beccato Eddie Biff fuori dalla radio a caso. Quando è successo? Quando Eddie Biff è venuto a casa mia a fare la live. Ah... Assolutamente Bene, bene ragazzi Allora Max non hai delle buone Non hai delle buone considerazioni Ciao Gloria Ok Non l'ho capito, non l'ho visto Non l'ho visto Ok allora E poi io se dico assegnata sono una merda No vabbè Nel senso ci sbronziamo entrambi E comunque poi vediamo come va avanti la situazione Cercavi di sciogliere la situazione Cercavo di sciogliere la situazione Una situazione veramente Sì esatto, situazione che era disastrosa Ho detto è l'unico portone che mi rimane Questo cioè non sapevo più che cazzo fare Che cosa succede Entriamo a questa festa E lei prima che arriviamo a questa festa mi dice Ah Simo non so Sai che stasera c'è anche il mio ex E lì ho detto Tra l'altro l'ex che mi conosceva e mi odiava E io odiavo lui Perché tipo io ci uscivo con lei Lui era un po' geloso Infatti secondo me lei usciva con me Solo per fare ingelosire l'ex Tra l'altro Vabbè Vabbè lasciamo perdere E allora cosa faccio Ririo in discoteca Lei era lontana Stava con le sue mie che sembrava mi volesse evitare Si vedeva che si era creata questa situazione Allora io a un certo punto che cazzo faccio Minchia vado da una Quella è la più normale di tutti la baby bunny È la più normale di tutti Scopatela Dagli la lingua e dagli il cazzo No 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 Giuseppe Stai uscendo Giuseppe Ti stai andando Giuseppe non andarti No no Giuseppe Oh Giuseppe Tu lo conosci Giuseppe Simone? L'ho cresciuto Per 47 anni Giuseppe Giuseppe Quindi se voi pensate Che con 10 euro L'ho acquistato Giuseppe cosa ne pensi di Elisa? Che cosa ne pensi di Elisa? No 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 Che timing Che timing incredibile O a dettrice Diesel Il mio dispositivo quale? Quello per streammare Il tuo dispositivo Con cosa Con cosa cazzo funziona? Fammi capire Elettricità 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 No Cioè io e te Come ci stiamo collecando? Con l'elettricità Elettricità No internet Voglio vedere un porno Sono molto bravo Perché sono come una busta Mi metti tipo Franco Bollo Entro perché non faccio mai un porno Ah Faccio ste live Sai che le faccio sempre Perché sono più bravo Di tutti sti fristi Del cazzo che lo fanno Ma io sai che sono molto bravo Ah Entro e dopo te la spacco Sta bara perché sono sempre Stato il più forte Di tutti quanti In questa barra Sai che spacco Tutti quanti Ah Entro Non finisco niente Perché sono bravo Perché sai che sto vincendo Entro finisco Esco Ciao Vaffo un culo Faccio mia come il mio gatto Ma voglio chiudere Con un'altra barra Perché sono più forte Di questi altri Che fanno queste bravi Del cazzo Perché sono bravi Tutti quanti Spacco ma queste rime Sono le stesse Jody la tipa Ti ha ringraziato Per lo shieldino? Non l'ho Non l'ho conto Io però sono curiosa Io voglio sapere La faccia della Cosa c'è da sapere? Piantiamola Piantiamola Così la lista di scopamenti Si allunga sempre di più Premi qui Vabbè Appena dimagrisco Il 31 agosto 2022 Dopo avermi tolto 46,3 kg di grasso Se vuoi assaggiare L'uccello Leccesa allungato Perché è privo di grasso Beh Levami dal cazzo Dalla tua lista Che ti ingravido Vedrai come rimarrai Possedute Tornando nel tuo paesello Mi lascerei pure Il feedback Tipo Amazon A te il sesso piace Questo è il messaggio Che abbiamo mai No Abitammo sì Abitammo vicini Molto vicini Perché l'altra volta È stato veramente Di una rapidità incredibile Non Cosa No niente I soldi ce li ha Unicredit Piuttosto che Intesa San Paolo Piuttosto che Quell'altro Non sono soldi Miei Totalmente miei Anche quella cosa Là Capito Che poi Io sia un pirla Perché li metto Su un exchange Piuttosto che Su un portafoglio Cripto Cioè capito Vabbè Ma poi le banche Le banche raga Non sono Cioè Volete sapere C'è una clausola Delle banche Che si chiama Baylin Allora Se è una banca Non succede Non è una cosa Che succede Un secondo Un attimo Mi sa che Giardi Non è in una Oh Aspetta Giardi Non è in una posizione Molto Cioè che fa presagire Una Una presenza Un'altra L'indica Una ragazza Che ho conosciuto Però vorrei permettere Il remix Quello Il remix Quello Si è stato rubinato Proprio Eh sì Tutti bene Perché non Fai una canzone Eh Fai una canzone Eh Dove fa Dove fa 200.000 Questo 10 metri 10 metri per 5 metri 10 metri per 5 metri Volendo posso fare Un piccolo lavoro Di ristrutturazione Il pavimento Insomma Cioè faccio una stanza Bella grossa Dove ci posso fare Il cazzo Come fare Street Molto bello Ci ho 4 ettri di terra Intorno Sì vabbè Plex doveva finire Sulla cifra Vabbè Non dico niente Basta No no Un contro C'è un contro solo Questo posto Quindi la femmina La femmina La gradisci Elettronicamente O dal vivo Dipende nel contesto In un contesto Può esserci Feeling Anche Elettricità Internet Cioè Elettricità Telematica Brava No 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 Qui la più normale È Baby Bunny Ma sai perché Baby Bunny È la più normale È la più normale Di voi tutti Baby Bunny Almeno lei Almeno lei È la più naturale Perché Una volta Ma non ci conosci Come fai a dire Ma papà Te ne affanculo Te lo dico io Cosa Ma papà Te ne affanculo Ma chi ti conosce Hai visto Ma papà Te ne affanculo Almeno Ma mettimi Ma fammi parlare Con Baby Bunny Fammi parlare Con Baby Bunny Ma parla C'è chi te lo impedisce On